È ricoverato in condizioni disperate, ma non è morto, come era stato detto in un primo momento. L'operaio 21enne che questa mattina a San Felice Extra, alle porte di Verona, è caduto in un silo delle cantine Pasqua mentre stava svolgendo dei lavori di manutenzione. In condizioni critiche il collega, di 37 anni, che ha cercato di soccorrerlo, cadendo a sua volta dalla scala del silo e battendo la testa. I due operai lavorano per una ditta di San Martino Buonalbergo, specializzata nella pulizia dei silos. Il più giovane ha inalato i vapori ed è svenuto, cadendo all'interno. Il collega si è precipitato sulle scale per salvarlo, ma è scivolato, cadendo a sua volta. È stato portato in elicottero all'ospedale di Borgo Trento, dove è ricoverato in rianimazione. Lo Spisa l'indaga sulla dinamica. L'unica cosa che può dire per ora è che questo tipo di manutenzione non può essere mai svolta solo da due persone. I lavoratori che vanno a fare questo tipo di attività devono essere almeno tre e devono avere una formazione specifica e un'esperienza di almeno tre anni. Dopodiché devono avere come dotazione un ossimetro, cioè un misuratore di ossigeno, per cui in un ambiente dove si riscontra che l'ossigeno è insufficiente, non si entra. Questo salva le persone. La famiglia Pasqua esprime vicinanza alle famiglie dei due lavoratori e si dice da sempre impegnata per garantire il massimo della sicurezza e sta collaborando con le istituzioni per ricostruire la dinamica dell'accaduto.